Musica Buonasera, in apertura di Tg la giudiziaria, la procura di termini meresa presenta appello al tribunale del riesame contro l'ordinanza di revoca della misura cautelare nei confronti di Giovanni Barreca, accusato di aver ucciso assieme ad altri la moglie e due figli minori. La revoca di misura cautelare è stata disposta dalla GIP sulla base di una perizia che, secondo la procura, non ha però avuto contraddittorio tra le parti. Tutti i dettagli nel servizio curato da Mario Grasso. Incapace di intendere e volere. Questo l'esito di una perizia disposta dalla GIP che aveva fatto scattare la revoca di misura cautelare e di applicazione provvisoria di misura di sicurezza. Nei confronti di Giovanni Barreca, il muratore di Altavilla Milici, ha accusato di aver ucciso la moglie, due figli, compiendo il tutto assieme alla figlia maggiorenne e una coppia di fanatici religiosi. Avverso la decisione del GIP, la procura di termini merese ha depositato adesso al pello al tribunale del riesame, in quanto la decisione sarebbe stata assunta in assenza del preventivo parere del pubblico ministero, nonché l'applicazione della provvisoria misura di sicurezza in assenza di qualsivoglia richiesto o istanza del pubblico ministero. Per la procura di termini, l'ordinanza e i conseguenziali provvedimenti integrativi e correttivi si pongono quindi in antitesi ai principi concernenti il rispetto del contraddittorio processuale tra le parti, infine presentando profili di contraddittorietà e logicità motivazionale. Tra l'altro, sempre secondo la procura di termini, l'ordinanza del GIP sarebbe stata emessa ancora prima di comunicare alle parti il deposito della perizia e dunque sulla base della sola risultanza dell'elaborato depositato dal collegio di periti nominato dal GIP stesso. Non già, scrive ancora la procura in una nota, basandosi sulla consulenza del professore Stefano Ferracuti, che invece è stato nominato dal pubblico ministero, la cui relazione è stata depositata il 3 novembre scorso e che diverge dalle valutazioni e dalle conclusioni cui sono giunti i periti invece nominati dal GIP. La perizia di Ferracuti, fanno sapere i magistrati, definirebbe Barreca parzialmente incapace di intendere e volere con un elevatissimo grado di pericolosità. La procura ricorda che l'ordinanza ha inizialmente disposto l'immediata liberazione della persona sottoposta a indagine nell'attesa della individuazione di una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, applicando la libertà vigilata salvo poi adottare, sempre senza richiesta di parere, un provvedimento correttivo disponendo la permanenza di GIP Barreca in una sezione dell'istituto penitenziario. Secondo l'accusa, al culmine di un esorcismo uccise la moglie Antonella Salamone e i figli Emanuele e Kevin. Per la strage sono indagati anche due presunti fanatici religiosi, Massimo Carandente e Sabrina Fina, insieme alla figlia 17enne di Barreca. La strage l'11 febbraio scorso. Ancora sangue sulle strade siciliane a Monreale, nel Palermitano. Ieri sera un incidente mortale, perde la vita un automobilista di 25 anni. Il giovane, dopo aver perso il controllo dell'auto sulla quale viaggiava, si è schiantato contro un muretto. Vediamo. Erano le 20.30 ieri sera. Emanuele Favaloro era la guida della sua Hyundai Atos. Aveva appena terminato il suo turno di lavoro e stava rientrando a casa. Il giovane si stava dirigendo verso Pioppo, frazione del comune di Monreale, dove era residente. Quando improvvisamente perde il controllo dell'auto, la vettura di colore grigio in prossimità di una curva va fuoristrada, finendo la sua corsa contro un muretto che delimita la carreggiata. L'impatto è terribile. L'automobilista di 25 anni rimane gravemente ferito. I soccorritori del 118, giunti sul posto, prestano le prime cure al giovane che viene trasportato d'urgenza all'ospedale Ingrassia di Corso Calatafimi. Il 25enne, poco dopo, muore in ospedale. Le cause dell'incidente avvenuto lungo la statale 186 non sono ancora chiare. Il veicolo è stato sequestrato per accertamenti e portato in un deposito giudiziario. La procura non ha ritenuto necessario disporre l'autopsia e dunque la salma della vittima è stata riconsegnata ai familiari per la celebrazione del funerale. Emanuele Favaloro era padre, lascia la moglie e un bimbo piccolo di 4 anni. Il sistema normativo che regola i flussi migratori in Italia va rivisto perché le procedure accelerate entrate in vigore limitano i tempi per chi arriva di motivare le ragioni per cui non vuole tornare nel proprio paese d'origine. Emblematico è il caso di un egiziano di 25 anni arrivato a Pozzal una settimana fa. Sentiamo. Decreto flussi e procedure accelerate. I tempi a disposizione dei richiedenti asilo per preparare le loro difese si contraggone nel caso di procedure di frontiera accompagnate da trattenimento si priva della libertà. Quello che è accaduto ad Abdul nome di fantasia. Il 25enne egiziano è arrivato lo scorso 31 ottobre al CPR di Pozzallo. Qui la sua richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato con il provvedimento emesso dal questore di Ragusa di trattenimento in attesa che la Commissione territoriale per la protezione internazionale di Siracusa si esprima circa la sua possibilità di rimanere nel nostro paese. All'indomani della decisione del Presidente della sezione immigrazione del Tribunale di Catania con la quale si annulla il trattenimento per lo stesso Abdul, il primo provvedimento di questo tipo dopo il decreto legge sui paesi sicuri, a parlare è proprio il legale del migrante che spiega come il sistema vada assolutamente rivisto. Per Abdul ci sono due ipotesi. O che venga accolta la sua domanda di protezione internazionale, in questo caso avrà un diritto ad un permesso di soggiorno in Italia. Se invece non dovesse essere accolta la sua domanda di protezione internazionale, avrà in base alla normativa attuale 14 giorni per impugnare il provvedimento dinanzi al Tribunale. Mentre secondo la nuova normativa, secondo appunto il decreto legge 145 che verrà approvato a breve, i tempi si ristringeranno perché saranno solo sette giorni per impugnare il provvedimento. Pensiamo all'Albania, nei casi albanesi i sette giorni sono pochissimi perché il difensore si deve ricavare in Albania, almeno ci saranno due giorni di viaggio. Il ricorso quando potrà essere redatto in un solo giorno? I tempi sono molto ristretti, quindi questa normativa va cambiata. Andiamo adesso a Messina. Tre organizzazioni collegate tra loro dalle gambe familiari sarebbero i gestori del più vasto traffico di stupefacenti nella capologo peloritano e provincia. Nell'operazione scattata all'alba dalla squadra mobile coordinata dalla procura sono state tratte in arresto 24 persone. Sarebbero tre le organizzazioni criminali a capo della gestione spaccio di stupefacenti a Messina con base nel quartiere Santa Lucia sopra contesse collegate tra loro da rapporti di parentele e operanti nel medesimo contesto territoriale, realizzando quella che gli inquirenti definiscono come la più grande e organizzata base dello spaccio di Messina e dell'Interland, tra cui una delle cellule guidate da una 52enne Elena Santovito. 24 gli ordini di custodia cautelare speccati dal GIP del Tribunale peloritano su richiesta della direzione investigativa antimafia della procura ed eseguiti in tempi diversi dalla squadra mobile che ha condotto l'indagine e dalle prime luci dell'alba ha fatto scattare l'operazione conclusiva con l'impiego di un centinaio di agenti che hanno cinturato il popoloso rione messinese, smantellando la base logistica ricavata in una costruzione abbandonata, controllata da occhi elettronici dove veniva lavorata o confezionata in dose e piazzata sul mercato la droga. In una precedente operazione erano stati individuati e arrestati due soggetti appartenenti allo stesso sudalizio, sorpresi con oltre un chilogrammo di cocaina e due di marijuana e 20.000 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. L'accusa è di associazione per delinquere, finalizzata alla detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e alla vendita al dettaglio di cocaina, crack e marijuana. Dalle indagini è emerso come le tre organizzazioni criminali in accordo tra loro avevano stabilito la propria base operativa dello svercio della droga occupando un manufatto abusivo trasformato in una roccaforte attraverso un'installazione di uno sofisticato sistema di videosorveglianza in grado di monitorare le strade di accesso e il perimetro dello stesso. Nella centrale della gestione dello stupefacente gestita dalle tre organizzazioni criminali in accordo tra loro ogni giorno venivano cedute centinaia di dosi di cocaina, crack e marijuana per un giro di affari stimato in svariate migliaia di euro a settimana. I fermati sarebbero tutti legati tra loro da accordi di acquisto, cessione della droga e spartizione dei proventi della vendita a seconda del ruolo ricoperto nell'organismo tra promotori e subordinati. La regione Sicilia stanzia 100 milioni di euro in aiuto agli agricoltori colpiti dalla grave siccità nell'isola. Per gli addetti al comparto comunque non è una misura completamente soddisfacente. Un aiuto concreto per chi sta pagando un prezzo altissimo a causa della siccità che ha recentemente attanagliato la Sicilia. 100 milioni di euro per dotare gli agricoltori siciliani di strumenti utili a contrastare e prevenire i danni causati dalla siccità. 50 milioni sono già stati stanziati e saranno erogati attraverso un bando pubblicato dall'assessorato regionale dell'agricoltura relativamente all'appiato di sviluppo rurale 2014-2022 per gli agricoltori siciliani. Si tratta di un sostegno a investimenti in azioni di prevenzione, volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. Una misura importante è quella stanziata dalla regione siciliana ma che non soddisfa a pieno gli addetti al settore. Semplicemente una goccia in mezzo al mare perché la crisi è alquanto evidente, è molto vasta e molto drammatica. Questi soldi sicuramente non potranno mai bastare per colmare il danno che c'è nelle nostre aziende e perché voi vedete tutti gli agrometri ormai quest'anno sono allo stremo e da due anni che irrigiamo con l'acqua dei pozzi, l'acqua salata, i nostri invasi sono ormai vuoti e anche le falde sono ormai giunte al minimo storico. Per cui non sappiamo come programmare e andare ad affrontare altre stagioni irrigue. Il grano quest'anno non è stato raccolto, le arance sono rimaste piccole, le api non hanno più prodotto miele per cui viene importato da fuori. Chi ha gli animali nella zootecnia purtroppo oggi si ritrova ad affrontare un problema di crisi idrica, di lingua blu e di tanti altri problemi. Sì è vero sono stanziati questi 100 milioni ma il nostro dubbio rimane anche perché i tempi sono molto stretti per cui noi leggevo entro il settembre del 2025 dovremmo completare tutte le opere per cui i nostri tecnici devono avere il tempo di preparare le domande, l'ispettorato Palermo deve avere il tempo di guardare e controllare per cui noi dovremmo fare poi i lavori entro il 2025 per cui non so se i tempi riescono a far arrivare l'acqua nelle nostre aziende. E' pronto il piano di rilancio dell'ex BluTech di Termini Merese a Roma. A pochi giorni dalla firma il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso ha incontrato Ross Pelligra. Vediamo. Illustrato a Roma il piano di rilancio dell'ex BluTech di Termini Merese tra la Pelligra Holding Italia e il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso nella foto per il progetto di recupero e ripresa occupazionale del sito industriale. A Palazzo Piacentini Ross Pelligra e Giovanni Caniglia rispettivamente presidente del gruppo di investimenti e amministratore delegato hanno spiegato nel dettaglio la proposta di sviluppo dell'area produttiva chiusa da anni che prevede l'assorbimento dei 350 lavoratori, la riconversione e riqualificazione dell'ex polo automobilistico della Fiat che ospiterà un centro di sviluppo manufatturiero, industriale e commerciale oltre a start-up specializzante nell'innovazione dei processi industriali, stabilimenti per costruzioni, imprese della logistica di alimentare del settore delle bevande. Al via anche la formazione di tutti i dipendenti dell'ex BluTech e la pianificazione di incontri con le istituzioni locali, il sindaco di Termini Merese e le parti sociali. Il MIMIT si legge in una nota riserva massima attenzione al programma di ripresa dell'area industriale di Termini Merese che ha suscitato l'interesse di molte realtà locali, nazionali ed internazionali. La definitiva cessione dello stabilimento industriale dell'ex Fiat apre un nuovo capitolo dopo il ricorso presentato innanzitare di una società esclusa dalle trattative ministeriali per la cessione del sito, conclusesi in favore dell'imprenditore australiano, la cui aggiudicazione restituisce speranze ai lavoratori che da anni attendono un acquirente capace di sviluppare percorsi industriali certi e garanzie occupazionali. Il Comune di Palermo ha presentato le iniziative messe in campo a sostegno delle imprese. È previsto anche un contributo natantum in favore delle vittime di estorsione. Andrà da 5 a 10 mila euro il contributo natantum erogato dal Comune di Palermo alle imprese vittime di richieste estorsive e danneggiamenti compiuti da soggetti appartenenti alle associazioni mafiose. Il sostegno straordinario messo in campo dall'amministrazione comunale serve, ha sottolineato il sindaco Lagalla, a valorizzare il tessuto economico locale gravato da problematiche come il racket. Vuole, da una parte, essere un aiuto concreto a chi è vittima, dall'altra incentivare a denunciare. Stiamo intervenendo sui contributi alle aziende vittime del racket, riprendendo una attività che mancava da tempo e del quale si sentiva in qualche modo la mancanza per recuperare anche una dimensione di legalità e trasparenza. Ci rendiamo conto che c'è sempre una reticenza alla denuncia, a chiedere aiuto, però io ritengo che ormai quelle imprese che sono vessate sotto questi punti di vista devono cercare di avere un attimino più coraggio. Per ottenere il sostegno economico, spiega l'assessore alle attività produttive del Comune, Giuliano Forsinetti, bisogna denunciare il fatto e in seguito presentare la richiesta del contributo al Comune. Denuncia alle forze dell'ordine e poi si fa una richiesta al Comune dove vengono inseriti tutta una serie di elementi e poi c'è la valutazione, ripeto, da parte del tavolo anti-racket che abbiamo costituito, l'abbiamo avuto fortemente al nostro fianco, che si esprimerà anche per la concessione del contributo, che chiaramente dipenderà anche dalla gravità del fenomeno. I fondi non sono destinati solamente alle vittime del racket, le risorse del Comune, un milione di euro in totale, serviranno a finanziare le nuove imprese e potenziare il tessuto produttivo della città negli ultimi anni, troppo sbilanciato sul settore food. Parliamo adesso del metro, torna a piovere a Catania dopo l'alluvione di qualche settimana fa, nel primo pomeriggio violente acquazioni hanno colpito la città e anche alcuni paesi dell'Interlanda, strada allagata nel quartiere di Canalicchio e inevitabile caos nel traffico veicolare in tilt in alcune zone. Forte pioggia segnalata a San Gregorio, tre mestieri, Teneo, Cireale, Cicatena, Giarecala, Dabbiano, sotto l'acqua anche la zona della Messinese e tutto il litorale ionico. Anche domani il maltempo insisterà sulla Sicilia con piogge innescate da una circolazione balcanica che farà diminuire le temperature di 3-4 gradi circa. Uno spettacolo teatrale per la realizzazione di un'area giochi e un murales nel reparto pediatrico dell'ospedale San Marco di Catania per combattere la Slao. Nuova iniziativa di solidarietà da parte della Ollus L'Angelo Federico. Vediamo. Segnatelo sull'agenda. Sabato 7 dicembre alle 20 a Mister Bianco e al Teatro Nesson Mandela andrà in scena l'eredità da Nonna Manu portata sul palcoscenico dalla compagnia teatrale Il Belvedere di Nuccio Anastasi. È uno degli appuntamenti promossi nel corso del tempo dall'associazione Onlus L'Angelo Federico che destinerà il ricavato alla realizzazione di una bambinople o un'area giochi all'allestimento di un murales artistico nel reparto pediatrico dell'ospedale San Marco. Altra parte verrà invece consegnata all'organizzazione post-fata-resurgo per vincere la Sla e ritornare a vivere. Federico era un ragazzo che è andato via troppo presto da questo mondo ma ha lasciato una grande forza che ha tramutato il dolore in amore, le lacrime in sorrisi e un compito aiutare i più deboli in qualsiasi forma e maniera in questi anni. Sono stati realizzati diversi progetti, un asilo in Tanzania, uno pozzo d'acqua in Guinea-Bissau, defibrillatori, tanto altro ancora. Adesso nuovi obiettivi. Con il ricavato della serata ci siamo prefissati di realizzare due grandi progetti. Il primo è destinato all'ospedale San Marco per creare due meravigliosi murales e in più una bambinopoli per i bambini all'interno della pediatria dell'ospedale San Marco. E poi con l'aiuto anche dei nostri sponsor vogliamo supportare l'associazione post-fata-resurgo per la lotta alla Sla. Sono delle iniziative assolutamente benefiche. Sono delle iniziative che in questi anni hanno lasciato davvero il segno. Perché continuiamo così a far vivere nostro figlio Federico nel suo nome per portare sempre amore ai più deboli, ai più fragili e poter realizzare, poter dare il nostro contributo dove realmente c'è più bisogno. La pagina sportiva con il calcio Daniele Faggiano sprona il Catani che sta attraversando un momento di crisi con pochi punti conquistati nelle ultime giornate. Il dirigente rossazzurro dicevamo sprona la squadra in vista delle prossime gare contro avversari assai temibili a partire dalla trasferta di Crotone per continuare con i successivi avversari che saranno il Trapani e poi anche l'Avellino. Il Catani sta vivendo un momento negativo, difficile da pronosticare ad inizio stagione. Dopo il buon avvio la formazione di Toscano ha perso punti per strada allontanandosi sensibilmente dalla vetta della classifica distante ad esso. Ben nove lunghezze, il report delle ultime quattro gare in particolare ha fatto accendere la spia della riserva in casa rossazzurra ma il direttore sportivo Faggiano non perde comunque la determinazione di riuscire a recuperare il terreno perduto. Io adesso ho parlato alla squadra e gli ho detto che il campionato è lungo dobbiamo essere positivi e guardare le cose buone che abbiamo fatto e le cose brutte che abbiamo fatto oggi per cui da domani si lavora per il Crotone, per fare punti io non mi arrendo, io come la squadra non si arrende per cui i fischi ben vengano perché noi che lavoriamo nel Catania dobbiamo capire che dobbiamo dare qualcosa pure quando non ne arriviamo è così ma non molliamo non mollo prima io che rappresento la squadra mi dispiace che sono venuto a parlare oggi sono contento di vedervi ma quando parlo io è per cercare un attimo di togliere un po' di responsabilità a tutti noi siamo il Catania non posso pensare che la mia squadra si allena a livello 6 o dia 6 dobbiamo dare sempre qualcosa in più pure per rispetto alla città e alla tifoseria e non è una non voglio portare l'acqua al mulino per la squadra è la verità per cui se io soffro o ho passato qualche problema e sto qua è perché sto dando il 200% e lo dobbiamo dare tutti io non posso dire niente a inglese, a montalto, a stoppa posso solo dire che voglio di più vorrei di più però stiamo passando un periodo che siamo calati tutti e adesso la pallavolo facciamo il punto sulle squadre siciliane di A2 turno di campionato decisamente positivo per le due formazioni siciliane di pallavolo serie A2 in campo maschile cos'è di il Saturnia piega alla pala Catania vero e proprio fortino per il sestetto etneo il Pineto volley con un chiaro e netto 3-0 successo che permette ai ragazzi di Camillo Placì di rimanere a meno due dalla capolista con Sarra Ravenna in campo femminile il big match si è giocato a Messina Accademia Sant'Anna ha superato 3-1 di slancio l'ostico macerata dall'altro lato della rete mettendo la sordina alla De Cortes alla ex Battista sugli scudi certamente ancora una volta Bintu Diop ma soprattutto Dalila Modestino che dal centro ha fatto il bello e cattivo tempo trascinando la propria formazione in un successo chiaro e netto forse più di quanto non dica il risultato Accademia Sant'Anna dunque continua a veleggiare al secondo posto ad un punto dalla Consolini Volle e sarà questo il duello che probabilmente animerà l'intera regular season tornando al maschile e alla partita tra Cosedi e Leab e Pineto da segnalare la solita costante prova in attacco di Basic e d'Argenta con Manavi sempre pronto per consolidare il bottino in regia Saitta non teme ormai confronti Il telegiornale finisce qui vi ricordo che lo potete seguire da poco sul sito reitv.it e sui nostri canali social prossimo appuntamento con l'informazione in diretta domani alle 14 ringrazio il regia Carmela Fagone e Fulvio Ferrauto e vi auguro una buona serata grazie a tutti Grazie.